Vai che entra Lorenzo, dentro Lorenzo, dai! Una bestia! Cosa? Cabestia? Fiscava! Stigia eh! Oh, mi hai dato capire! Eh ma è fredda! Dai, hai fatto fare tutto! E tre? Uno! Però mi piace bene in piedi! Mi vuole vedere qualche bracciata eh! Sì qualche bracciata, l'altro di zero in piedi! Quattro bracciate poi in piedi! No, è fredda Nizè! Il chiodo è! Vai che per i posteri ce l'ha! E poi deve essere giro! Si butta nel ghiaccio in Siberia, dai! Dammi che pesca, dammi! Fabio, attenta che tiro il filo! Vai, vai Fisca! Com'è? Un commento a caldo, anzi a freddo! Che bestia! Stinca!